Parliamo di Enola Holmes 2. Ho visto il film in anteprima grazie a Netflix qualche giorno fa e devo ammettere che lo attendevo, sia perché il primo che ho recuperato relativamente di recente, qualche mese fa, mi era piaciuto, mi aveva convinto, ma mi avevano convinto anche i trailer e quindi ero curioso di vedere questo sequel. Questa recensione, ne avevo già parlato su Instagram, sarebbe dovuta uscire il 4 di novembre, quindi il giorno dell'uscita del film su Netflix. Tuttavia, questa mattina il ragazzo che si occupa delle anteprime dell'ufficio stampa ha inviato una mail informandoci che l'embargo è scaduto in anticipo, quindi mi sono messo qui davanti alla camera, non avevo previsto di poter registrare già oggi, per far uscire il video qualche giorno prima dell'uscita del film. Nonostante questo avevo già pronto il mini video che pubblico sui tre social, ovvero TikTok, YouTube stesso e Instagram sotto forma di TikTok, Short e Reel, con le tre nuove, diverse e identiche serie allo stesso tempo di mini recensioni, che vi invito a seguire sul social che vi viene più facile. Tanto i link sono tutti nella descrizione. In descrizione trovate anche il link di Pampling, il sito di t-shirt e non solo a Tema Nerd, e se al momento del pagamento inserirete il codice Il Pensiero 4 avrete un paio di calze gratis, ovviamente dopo averle inserite nel carrello, e le calze gratis le sceglierete voi. Vi invito a visitare il sito di Pampling perché ci sono tantissimi tantissimi prodotti. Ma adesso parliamo del film. Ovviamente questa sarà una recensione senza spoiler, sia perché comunque deve ancora uscire il film, quindi sarebbe inutile fare una parte spoiler in un video in anteprima, ma anche perché io stesso non vorrei fare un video spoiler su film del genere. Come primissima cosa bisogna tenere in mente che tipo di film si sta guardando. Come per il primo, anche questo Enola Holmes 2 è indirizzato a un pubblico piccolo, un pubblico di bambini, di ragazzi, di giovani adulti. Indirizzato ovviamente non vuol dire che deve guardarlo solo quella fascia di età, possono vederlo tutti, anche può piacere a tutti. Però solitamente scoppiò a ridere quando sento magari un adulto di 30-40 anni criticare un film come Enola Holmes per essere troppo infantile. Ecco, in generale in realtà per qualsiasi cosa, per qualsiasi prodotto, bisogna capire a chi e a che cosa è indirizzato. Vedendolo quindi sotto quest'ottica, e alla fine possiamo anche dire che il film è indirizzato a la mia età, io sono 18enne, però credo di trovarmi in quella fascia di pubblico a cui è indirizzato Enola Holmes, e quindi posso dire che anche come per il primo film questo mi è piaciuto. Forse un po' meno in confronto al primo, perché si perde in qualcosina, ma mi ha convinto. Avrebbe anche potuto superare il primo film a livello di apprezzamento da parte mia, perché ha un diverso intreccio sia con la realtà ma anche proprio nella storia. Laddove nel primo film alcune cose erano solamente suggerite, quindi magari non tutti avrebbero potuto capire alcuni riferimenti alla storia reale, alla nostra vita, qui c'è a tutti gli effetti un intreccio completo con una cosa successa realmente anni e anni fa, non in Italia naturalmente. Anche se alla fine è una cosa che fortunatamente ha influenzato un po' tutto il mondo. Io continuo ad apprezzare Millie Bobby Brown e Derrick Evil come rispettivamente Enola e Sherlock Holmes, non capisco da dove provengano tutte queste critiche che ho sentito dire negli ultimi periodi, sia per il primo film ma in generale anche per gli attori, non riesco a concepire. E ripeto, questo sequel aveva anche la possibilità di superare il primo, ma ha deciso di concentrarsi su cose che era meglio lasciare un po' sullo sfondo. Qui il caso, o meglio i casi, non è uno spoiler nel trailer, viene persino detto che i casi di Sherlock e Enola si intrecciano tra loro, qui il caso, o i casi, sono anche più studiati all'interno dello script, della sceneggiatura, sotto alcuni punti di vista. Dall'altra parte però ci sono dettagli che sfortunatamente fanno arrivare molto facilmente alla soluzione. Nonostante questo le scene di investigazione mi sono piaciute. Anche nel secondo film sono ovviamente presenti delle scene d'azione, che sono a tutti gli effetti limpide, sono comprensibili anche ad occhi chiusi, non so perché l'ho detto in questo modo, però sono abbastanza semplici, non sono confusionari, non danno fastidio, sono dirette bene, e quella finale, quella che chiude il film, mi è piaciuta davvero tanto. Anche se ci sono un po' di cose che non mi hanno convinto al 100%, perché non vengono presentate nel modo che avrei voluto. Per esempio alcune cose che avrebbero dovuto far preoccupare lo spettatore, ma che a me hanno fatto dire, e vabbè, dai, si vede. Ho avuto l'impressione che in questo secondo film abbiano voluto premere sull'acceleratore sotto il punto di vista della comicità, infatti ce n'è. Ci sono molte più gag, per lo più fisiche, e lo sfondamento della quarta parete, che è un tratto distintivo di Enola Holmes, di questo personaggio, almeno nei film, non so se nei libri, perché sì, anche Enola Holmes è un personaggio dei libri creato appunto per ragazzi, non so se nei libri parla anche con lo spettatore, ma penso di sì, non credo sia una cosa che si sono inventati per i due film. Ecco, lo sfondamento della quarta parete, per quanto mi riguarda, non è mai eccessivo, non è mai intrusivo e non dà fastidio, e soprattutto non è fuori luogo, perché in questo caso i personaggi in scena non sentono Enola parlare. Non come un certo prodotto su un personaggio verde che parla con lo spettatore, i personaggi attorno a lei o lui, non voglio dire molto, la sentono o non la sentono a seconda della scena. Chissà a quale serie mi sto riferendo. Tornando al film, comunque intrattiene, forse avrei levato qualche minuto, perché ci sono alcune scene che si sentono molto molto lente, si sente la fatica nel seguirle, però sono davvero poche, avrei levato forse un 5-10 minuti, non tantissimo. E per concludere questa recensione voglio dirvi, rimanete fino alla fine del film, perché c'è una scena mid-credit, che per i fan di un certo personaggio potrebbe essere qualcosa di davvero interessante. Io non sono un fan di questo personaggio, però allo stesso tempo mi sono eccitato guardando questa mid-credit. Credo che arriverà un Enola Holmes 3, soprattutto se questo film andrà bene, se andrà male, sfortunatamente possiamo già salutarlo, ma non penso andrà male, perché nel film c'è Henry Cavill e il pubblico di Netflix, sappiamo quanto adori Henry Cavill. Ora non so, visto che ha lasciato il ruolo di Geralt, però vedremo in qualche modo, ma sicuramente Millie Bobby Brown, il pubblico di Netflix, la apprezza. Ma ragazzi, se state guardando questa recensione prima del 4 novembre, fatemi sapere quanto attendete Enola Holmes, e se invece la state guardando dopo l'uscita del film, fatemi sapere proprio cosa ne pensate. Se volete fare spoiler, potete farli tranquillamente, però contrassegnate il vostro commento con la dicitura spoiler per non rovinare il film a chi ancora non l'ha visto. Vi ricordo che in descrizione trovate i link dei miei social, con tutte le serie delle mini recensioni, il link di Pampling, codice ilpensiero4 per supportare il canale, avere un paio di calze gratis. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!